La Nuga qui a Colonia rappresenta una vetrina essenziale nelle nostre strategie di espansione globale. Noi in qualità di Oropan ci sentiamo veri e propri ambasciatori del food made in Italy, promuovendo la qualità e l'eccellenza in prodotti alimentari che il nostro paese ha da offrire. La nostra presenza in questa importante fiera internazionale ci conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Proporre prodotti tradizionali e innovativi per un consumatore sempre più evoluto, consapevole, che guarda al futuro dell'alimentazione, oggi in chiave sostenibile. Grazie per la visione!